Buongiorno onorevoli amici dell'atelier FotoJack, siamo le vostre inviate Gloria Panaroli e Marianna Baldo, direttamente dal Grand Hotel di Le Chouet. Ora, dopo questo English Breakfast e un voltino autunno perché siamo in autunno, ci adentreremo in un villaggio sulle montagne di Le Chouet. Ci aggiorneremo a chiutarli. Buona giornata.